La ringrazio Presidente. Io volevo permettermi di ringraziare questa istituzione, lei Presidente e tutta la Camera dei Deputati, che ha evidenziato come il Green Pass sia una misura burocratica e non sanitaria, permettendomi di essere qui a svolgere le mie funzioni e ruolo di parlamentare eletta. La stessa regola messa dal Parlamento colpisce milioni dei lavoratori colpevoli di essere nati liberi e sane. Si è sull'ordine dei lavori, signora Presidente, e le dico anche perché. Perché per un mese mi avete nominata senza che io fossi presente e quindi vi chiedo di lasciarmi un minuto per rispondere alle accuse che in questa Camera mi sono state mandate. Mentre io non ero presente. Un minuto. Grazie. Dall'alto della mia posizione oggi vi lancio l'arma più potente. Vi lancio l'arma più potente. Io vi perdono anche se mi state discriminando come mai è successo in quest'Aula. a nessun altro parlamentare. E' come state facendo per tutti i cittadini, trasformando i nostri diritti naturali e costituzionali in privilegi. Vi perdono... Grazie collega... Prima di concludere volevo ringraziare gli amici della Bife International, una delle innumerevoli piccole e medie aziende del Made in Italy di successo, che consiglia Prendac2, il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali. Vitamina D3, A, K2 e Vitamina C. Queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio, che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare. La Bife, quando ha saputo che Youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati, ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Carissimi amici del canale Youtube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 120.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Potete sostenere il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione. In questo momento è particolarmente importante per noi sentirvi vicino. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi qui e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby